Benvenuti, porte aperte alle scuole di Acqua Piemonte. Il nostro percorso formativo si intitola L'Area Radioattiva? Che cos'è il RADOL? E come si misura? Il percorso durerà circa due ore che porteremo all'interno del nostro laboratorio dove parleremo di RADOL, questo gas radioattivo naturale come sia presente in tutti i suoli e come può entrare all'interno dei luoghi chiusi abitazioni, scuole, luoghi di lavoro. Vi faremo conoscere le particelle alfa vi mostreremo i nostri strumenti di misura i dosimetri, i strumenti passivi e i strumenti di misura attivi. Vi parleremo di mappatura RADOL passarete e vivrete un giorno da tecnici o fisici di laboratorio Vi aspettiamo numerosi!